Benvenuti a questa nuova puntata del format Una finestra su, una trasmissione che, lo ricordiamo sempre, viene registrata tra Roma e Perugia e che va di fatto in contemporanea in onda sia nel Lazio che in Umbria, nel Lazio sul canale 87 del digitale terrestre, in Umbria invece sul 13. È un piacere oggi accendere i riflettori, aprire proprio una finestra sullo sport e farlo con Pino Capua che è il presidente della Commissione Antitoping della FIGC. Ben trovato. Ben trovato, salve a tutti, è un piacere, è un piacere per me. Dopo una pausa di circa 4 anni l'è stato nominato di nuovo presidente della Commissione Antitoping della FIGC. Cosa rappresenta per lei questo ritorno? D'altonde si parla di ritorno perché lei ha ricoperto questa carica dal 2001 al 2015. Allora, intanto mi fa piacere che lei parli della pausa. In effetti, devo essere sincero, è stata una pausa sofferta, una pausa abbastanza traumatica, dolorosa, avvenuta per, diciamo, motivi, chiamiamoli così, di decisioni a me ignote dei tempi della Presidenza da vecchio e direttore generale Michele Uva. Non ho mai saputo come mai avessero deciso di cambiare. In realtà, devo dire che la fortuna è cieca, ma a volte ci vede benissimo. Io, a distanza di poco tempo dopo, sono stato nominato presidente della Commissione Antitoping del Ministero della Salute che, se vogliamo, dal punto di vista forse istituzionale, forse conta un po' di più. Però io, devo dire, lo dico sempre, vivo e ho sempre vissuto di pane e pallone, per cui il fatto di lasciare la fede del calcio in quel modo e spostarmi in un altro settore, peraltro, ripeto, interessantissimo, non era stato per me un momento molto gradito, diciamo. Poi, ripeto, la qualifica professionale è forse più prestigiosa quella del Ministero della Salute, però io amo il calcio e questo ritorno per me è stato veramente un motivo di grande gioia. Ti aspettava in un certo senso questa seconda chiamata? Magari poco prima della nomina c'era qualche elemento che le faceva intuire che, insomma, qualcosa stesse cambiato? Diciamo che io ho già lasciato il Ministero da sette, otto mesi, quindi per un periodo sono stato, tra virgolette, senza incarichi di questo genere. Io poi, grazie a Dio, faccio il direttore del servizio di medicina dello sport in un ospedale importante di Roma, al San Camillo di Roma, quindi la mia attività, diciamo, ufficiale, professionale, ovviamente non si è mai fermata. Mi aspettavo. Diciamo che il ritorno era collegato alla nuova gestione della Federcalcio, quando il Presidente Gravina è stato eletto Presidente federale, in qualche modo mi aveva detto che sarebbe stato un piacere per lui se io fossi tornato, anzi addirittura mi ha chiesto hai piacere a rientrare? E io, ovviamente, figurati, non solo piacere, ma una cosa del genere. Quando me lo chiese mi rese felice, poi passavo un po' di tempo per motivi proprio di natura tecnica, burocratica, eccetera, e poi quando è arrivata la nomina, il primo ottobre del 2019, per me è stato un momento di grande gioia. Al momento della rielezione le agenzie hanno ribattuto queste sue dichiarazioni. La Commissione Anti-Doping, tutela della salute della FIGC, avrà un ruolo delicatissimo, ma anche importantissimo. Come mai? Il problema del doping è un problema che deve essere affrontato, come si dice in termini calcistici, a gamba tesa, anche da parte di chi lo protegge, da parte di chi lo gestisce, perché non può essere solo una gestione amministrativa, una gestione burocratica dei controlli domenicali e di quello che avviene appunto sui campi. Deve esserci una programmazione scientifica importante, deve esserci proprio una progettazione che viene fatta insieme alla Commissione ovviamente, su tutti quelli che sono i nuovi temi del mondo dell'anti-doping. Io ho voluto sottolineare appunto in fase di esordio quello che ci interessa molto, il mondo dei giovani, il mondo dei settori giovanili, dove alcuni concetti a volte non sono minimamente conosciuti. E poi il mondo del calcio femminile, che in questo momento è un settore di grande espansione, voluto fortemente dalla FIFA e anche voluto fortemente dalla Federcalcio. Quindi anche in quel settore noi cercheremo di ragionare dal punto di vista educativo, dal punto di vista formativo. Io ho sempre, anche nella mia prima gestione, voluto chiarire che noi non siamo dei gendarmi, non siamo delle persone che fanno un'opera di repressione, facciamo soprattutto un'opera di formazione e di informazione, perché secondo me in questo mondo c'è purtroppo, ma non è colpo di nessuno, grande carenza di cultura. Diciamo che c'è ignoranza su questo argomento. Pensando ai più giovani, quali potrebbero essere le azioni più concrete proprio per portare avanti questo discorso di cultura? Allora, io partì allora, prima di andare via, con un progetto che si chiamava Campioni senza trucco e che raggiungeva migliaia di ragazzi nelle scuole di tutta Italia, con varie sedi, varie collocazioni. Poi, andato via io, è stato cambiato il nome, come spesso si fa quando succede appunto un cambiamento, è stato chiamato un gol per la salute, che per me va benissimo, tant'è vero che io rientrando ho mantenuto questo titolo, ed è un progetto che raccoglie esperienze di giovani delle scuole, soprattutto delle scuole medie, che sono quelli secondo me a rischio, che devono conoscere la materia. Noi cerchiamo di raggiungere capillarmente appunto questi numeri importanti di giovani per far capire quali possono essere i rischi dell'utilizzo di sostanze dopanti e far capire quanto queste sostanze possano essere non solo una frode per chi combatte con te e tu corri su una pista con una persona che corre a piedi e tu invece corri con la bicicletta, non so se mi spiego, ma soprattutto i danni che possono fare alla salute che non sono danni necessariamente del momento, ma che si possono addirittura ritrovare nel corso degli anni. Perché secondo lei l'età adolescenziale può essere quella un po' più a rischio per i ragazzi? Cambia qualcosa in quegli anni lì? Allora cambia qualcosa sì, perché i ragazzi sono delle spugne, sono delle spugne che assorbono, assorbono tutto, hanno un'intelligenza vivace, soprattutto un'intelligenza degli ultimi vent'anni che è cambiata proprio dal punto di vista della struttura scolastica, del fatto che c'è una grande interattività con internet, con tutti i social, con tutto il mondo che li circonda, che è diverso un po' da quello che facciamo noi. Quando io ero giovane tutte queste, tra virgolette, facilitazioni non le avevamo e loro hanno facilità di capire, di apprendere, quindi possono apprendere le cose buone ma anche le cose cattive e quindi senza rendersi conto di quali sono gli eventuali messaggi negativi che possono ricevere dal mondo esterno. E ripeto, per mondo esterno intendo il web, intendo le vicinanze, intendo le comunità dove il fatto di fare un aperitivo con una birra a 12 anni è un danno. Ora a 12 anni, a 13, insomma non vorrei esagerare, ci sono dei posti in Italia, non solo a Roma, dove i ragazzini bevono la birra ma ne bevono 3-4 di seguito ed è secondo me, e parlo della birra senza volerla criminalizzare per carità, dove secondo me poi si arriva facilmente al fumo di erba oppure all'utilizzo di, e purtroppo in vari settori ci sono, di pasticche che possono migliorare la serata in discoteca, insomma credo che in questo contesto bisogna essere sempre vigili e sempre con le antenne molto alzate, ma perché il calcio indirettamente è l'unico settore dove si fa protezione, aspetta, non è il calcio, è il mondo dello sport, il mondo dello sport è l'unico settore dove si fanno i controlli, perché in altri settori non ci sono, e allora noi dobbiamo essere in grado di entrare negli altri contesti della vita, gli altri contesti sono quelli che ho appena detto, e quindi è un ambiente delicatissimo, è un momento delicatissimo, è trascinare i giovani dalla parte nostra, se c'è una parte della barricata dove dall'altra parte tra virgolette ci sono i nemici, noi dobbiamo fare in modo che questi passino dalla parte nostra. Credo che sempre pensando ai più giovani che praticano attività sportiva, già dai primi anni di vita credo sia importantissimo il ruolo anche dei genitori, e da questo punto di vista se lei pensa ai genitori di oggi, di ragazzi che vanno da una fascia di età più o meno dai 10 ai 15 anni, si sente sicuro, si fida di loro in linea generale? Allora, i genitori di ragazzi di 15 anni hanno 40 anni, hanno 45 anni, adesso non voglio ragazzi, sono ragazzi pure loro, questo è il vero problema, quindi anche i genitori devono essere educati, perché? Perché in quel contesto purtroppo anche lì ci sono, noi abbiamo visto che purtroppo, se ne è parlato per Roma ma se ne parla per tutta Italia, c'è una diffusione di droghe leggeri o pesanti, importantissime in Italia, e questi qualcuno che la consumerà ci sarà, quindi evidentemente se c'è una diffusione, se c'è un commercio ci sono evidentemente anche quelli che fruiscono, e purtroppo in certe situazioni sono proprio i genitori quarantenni, sono proprio quelli che hanno vissuto un certo tipo di gioventù e che ancora se la portano dietro, e allora è ovvio che il progetto è un progetto difficile da portare avanti, soprattutto difficile da portare a termine, però se non c'è qualcuno che ci pensa, nessuno lo fa, a livello governativo ci sono alcune esperienze e alcune progettazioni, noi lo facciamo a un livello sportivo e cerchiamo di farlo proprio perché la commissione non è solo antidobbing ma anche tutela della salute, che significa che se parti per una salute tra virgolette protetta per i tesserati della Federcalcio, tutto questo lo puoi trascinare all'esterno se la cultura fa proseliti, non so se mi spiego, la cultura deve diventare un passaggio che va dal calcio al resto della società e questa è l'ambizione che noi vorremmo portare avanti e questa è l'ambizione che non solo io ma tutti i componenti della commissione ovviamente, ma ti dico in particolare anche il presidente Gravina, cioè la Federcalcio è attiva su vari settori, abbiamo sentito parlare del razzismo, abbiamo sentito parlare della violenza sugli stati, ecco il settore della tutela della salute e dell'antidobbing è un altro di quei contesti dove il presidente Gravina mi ha dato carta bianca ma ovviamente io faccio quello che lui vorrebbe fare o che comunque faremo insieme delle cose importanti. Pensando invece al calcio femminile, quanto c'è da stare attenti, sempre in ottica doping perché comunque al momento di quello stiamo parlando? Allora il calcio femminile secondo me è un momento interessantissimo, interessantissimo è di grande appeal, mi risulta che ultimamente nelle scuole calcio degli ultimi due o tre anni siano aumentate tantissimo le ragazze che vogliono fare calcio e quindi è di grande attenzione. Queste ragazze prima non ci pensavano minimamente di giocare a pallone perché sembrava che fosse semplicemente uno sport delicato ai maschi, invece no, invece è uno sport interessantissimo dove si vedono partite di qualità e di livello. Se io mi posso permettere, ma lo dico un po' da medico, un po' dal fruitore esterno, l'impressione che la partita di 90 minuti per le ragazze possa essere un po' troppo lunga. E allora una proposta che un giorno vorrei fare, ma la butto lì senza, ripeto, nessun tipo di ringrazione, per carità, perché... È un'osservazione alla fine. Secondo me se le partite durassero dieci minuti in meno probabilmente ci sarebbe un migliore, però dovrebbero cambiare i regolamenti, dovrebbero cambiare troppe cose. Ma la sensazione è che forse per un certo tipo di dispendio energetico l'organismo maschile forse è più preparato rispetto a quello femminile. Fermo restando che se le donne fanno le cose e decidono di farle, le fanno sempre bene. E quindi ho visto delle bellissime partite di calcio femminile che secondo me fanno proprio il piacere di vederle. E sempre parlando del calcio femminile, aumentando la pila, aumentando l'attenzione verso quel mondo lì, e credo che lì aumenti automaticamente il rischio tra gli atleti... Ci stava arrivando. Ci stava arrivando. Essendo una situazione nuova, dove ovviamente tutte le cose che vengono fatte adesso sono tutte nuove, anche il controllo antidobico deve essere considerato un apprezzamento da parte della fede del calcio, non deve essere considerata una sanzione. Cioè bisogna che i livelli della qualità della protezione tra virgolette per il calcio maschile siano identici per il calcio femminile. Non so se mi spiego. Quindi gli stessi tipi di controlli che vengono fatti per il calcio maschile devono essere fatti per una maggiore dignità appunto del movimento. Quindi io lo considero proprio un aumento dell'importanza del calcio femminile anche attraverso il controllo antidobico. Abbiamo detto in apertura che lei per un breve periodo, insomma neanche troppo breve, più o meno dal 2015 al 2019 è stato presidente della Commissione Antidobing però per il Ministero della Salute. La domanda qui è doppia. Intanto che tipo di esperienza è stata e nel lavoro quotidiano quali sono state le differenze sostanziali rispetto a quello che le faceva per la FIGC? Allora la differenza sostanziale è che ovviamente prima mi occupavo di calcio e poi per il lungo sono passati tre anni sostanzialmente e poi invece il Ministero della Salute si occupa di tutti gli sport. Quindi non solo ma di tutti gli sport di non tesserati addirittura perché quelli che sono in ambito coni, tanto per capirci, hanno una tesserina, hanno un cartellino di appartenenza alla società. Invece gli amatori e tutti quelli che vivono senza tessera, tra virgolette, sono quelli che vengono gestiti dal Ministero della Salute. È una situazione molto gratificante perché vengono fatti dei progetti, cioè il Ministero della Salute ha un X budget annuale dove dei progetti vengono finanziati, appunto i migliori vengono finanziati e portati in avanti per tutta Italia. E noi soprattutto facevamo questo, oltre a fare i controlli su vari sport, sul ciclismo, la pallavolo, l'atletica, eccetera, ci sono dei progetti interessantissimi che di anno in anno vengono finanziati. La cosa che volevo fare io ma che parzialmente sono riuscito a fare è che questi progetti non vengono messi in risalto, non vengono resi noti, perché secondo me la gente dovrebbe, comunque la società civile dovrebbe sapere che c'è anche una parte della parte governativa dello sport che si occupa della salute degli atleti. Quello è, si sa solo che esiste la Commissione che a un certo punto è il Presidente della Capua e che oggi sinceramente non so chi sia, però forse andrebbe stimolato un po' di più, forse con qualche mezzo economico in più, perché a un certo punto col passare del tempo i fondi si sono ridotti e quindi si poteva fare solo fino a un certo punto il lavoro desiderato. Secondo lei però qualcosa è rimasto di questo impegno, se non altro si è cambiata un po' la percezione? Assolutamente sì, beh allora calcoli una cosa, noi siamo stati primi nel lontano 2001 con la Commissione antidoping della Federcalcio a parlare di doping in maniera chiara, evidente, quando ci fu il momento in cui ci fu lo scandalo che fu portato fuori da Zeeman, perché questa è la verità, da allora, e lui diceva delle cose reali, diceva delle cose pratiche, da allora la Federcalcio prese coscienza, da lì ci seguì il Coni che già aveva ovviamente una struttura antidoping ma attraverso quello che ha fatto la Federcalcio ha migliorato la qualità non ci dimentichiamo che proprio con la Federcalcio noi nel 2003 abbiamo avviato i controlli sul sangue, che non si facevano da nessuna parte, i controlli sul sangue li ha avviati l'Italia attraverso la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Commissione antidoping da me diretta, e da lì è nato tutto, da lì è nato lo sviluppo all'interno del Coni, lo sviluppo, la commissione ministeriale appunto del Ministero della Salute nasce dopo la Commissione del Calcio, perché anche il Ministero della Salute prese finalmente coscienza che il problema d'opin era un problema serio che andava affrontato in maniera strutturata. L'importante è questa cosa che lei ha sottolineato, almeno a mio avviso, cioè che dal 2003 si sono cominciati a fare i controlli anche sul sangue, ci sono delle sostanze che si possono ritrovare controllando il sangue e che non si ritrovano nelle urine? Che porte hai aperto? Allora, la principale è l'eritropiutina, la principale è l'epo che è quella appunto che aumenta la quantità dei globuli rossi nel sangue, insomma adesso sarebbe un po' troppo complicato spiegarla in questo contesto, però sì ci sono sicuramente delle migliori possibilità di riscontro, però sai il problema vero è quello di far alzare l'asticella, di alzare l'attenzione per tutti quelli che studiano tra virgolette il modo per dopare gli atleti, perché esistono, esistono delle persone, dei criminali, io li chiamo così, che pensano a come poter aggirare l'ostacolo e quindi il controllo del sangue è ovviamente un deterrente in più, ovviamente, poi sostanzialmente noi abbiamo un grandissimo vantaggio, noi abbiamo il laboratorio dell'antitoping, appunto che fa i controlli antitoping all'acqua cetosa diretto dal professor Francesco Botré, che a mio modo di vedere è il migliore del mondo, devi sapere che ce n'è uno per nazione, cioè collegati con la NADA, con la UADA e NADO Italia è appunto l'agenzia nazionale del CONI, che parte dal CONI e adesso ormai è diventata indipendente, che ha il controllo diretto di quel laboratorio, poi in Francia c'è un altro in Belgio, un altro ancora eccetera. Secondo me il professor Botré, che non a caso quando ci sono le Olimpiadi viene chiamato a dirigere il laboratorio per le Olimpiadi, secondo me è il migliore di tutti, quindi complimenti al CONI, complimenti alla Federazione Medico-Sportiva che ha la responsabilità della gestione del laboratorio e lì ovviamente difficilmente si sbagliano, cioè tutto quello che si diceva un tempo, lo shampoo, la carne di cinghiale, le creme, tutte queste cose qua, non scappi, se c'è il campione di urina o di sangue che è appunto risultato positivo, vuol dire che è positivo. Sempre pensando al doping e in questo caso al calcio maschile, secondo lei per quella che è la sua esperienza, il rischio è maggiore nelle categorie inferiori o in quelle più importanti? Può sembrare una domanda scontata, però secondo me non è per niente scontata. Il rischio è, voglio dire, contemporaneo. Allora, perché? Perché nei settori direttantistici c'è più ignoranza e c'è più artigianalità, allora c'è magari quello che ti viene a consigliare questo tipo di integratore che magari non è un integratore pulito ma è contaminato da qualcosa, oppure quest'altra sostanza che vedrai che ti fa bene, allora l'atleta tra virgolette non consapevole accetta il consiglio e lo prende. Nei settori professionistici dove, e non è tutto così, in alcuni ambienti girano tanti soldi, l'atleta ha la possibilità di fare delle cose che magari costano tanto, per esempio, io lo butto lì, esistevano, non so se esistono ancora, delle centrali in Spagna dove si fu scoperto che alcuni atleti andavano a fare una terapia di una settimana, dieci giorni, eccetera, e che però se lo potevano permettere dal punto di vista... Poi tornavano in Italia e facevano, come posso dire, un periodo di disintossicazione, diciamo così, però quella parte di contaminazione dopante poi li aveva resi un po' più... Rimaneva insomma. Rimaneva, esatto. Ora io non faccio nessuna denuncia perché poi non ho degli elementi, ma gli elementi nascono da supporti giornalistici e da tutto quello che la storia ci ha fatto sapere. Quindi io spero, e per questo dico che l'atleta di vertice se lo potrebbe permettere, spero che invece i soldi degli atleti vengano utilizzati per altro e non certo per migliorare la prestazione attraverso il doping. Presidente, siamo in chiusura. Un'ultima domanda, in realtà me ne ero segnate tantissimo, abbiamo parlato della sua attività che svolge presso il San Camillo, anche la sua attività di medico per la nazionale cantanti, l'attività di docente. Un'ultima domanda che alla fine è sempre legata al doping, appunto è doppia. Volevo sapere se intanto è ancora rispettata a livello calcistico la formula che prevede il sorteggio di due atleti per ogni squadra nelle partite ufficiali e poi se i controlli che vengono invece effettuati durante la settimana sono sempre stabiliti dal CONI, se può confermare... Esattamente così, i due atleti venivano sorteggiati attraverso un sistema che è assolutamente inoppugnabile, quindi c'è la certezza, e questo pure da quando è arrivata la commissione antidopica della Federcalcio, perché inizialmente si faceva con un modo molto artigianale ed era facile anche scegliere addirittura gli atleti da mandare al controllo. Oggi è tutto molto serio, molto inoppugnabile anche quello e quindi c'è la certezza che non ci possano essere sconti da nessuna parte. I controlli infrasettimanali vengono regolarmente decisi dal CONI e sono anche quelli segreti, quindi il medico della Federazione Medico Sportiva va nei ritiri, va negli allenamenti e può fare il controllo e nessuno è mai al corrente di quello che succederà. Di solito si scopre qualcosa in più durante la settimana o durante le partite ufficiali? Grazie a Dio ultimamente è stato scoperto poco, quindi io ho il vantaggio tra virgoletti di ricordarmi che è l'ultimo giocatore che fu riscontrato positivo all'antidoping vero, che fu Callon, non so se ve lo ricordate. Callon era un giocatore che aveva un livello di nandrolone che se, ripeto, i valori normali sono 0,2 nanogrammi per millilitro, i valori riscontrati allora a Callon, che credo che abbia smesso di giocare, quindi possiamo parlarne tranquillamente, erano di 8 nanogrammi per millilitro, quindi da 0,2 a 8, quindi c'era ovviamente un'enorme contaminazione e da allora per fortuna, a parte alcuni casi di farmaci non dichiarati o cose del genere, casi importanti nel mondo del calcio non ce ne sono più stati. Presidente, è davvero tutto, la ringraziamo tanto per essere stato nostro ospire. È stato un piacere vero, è stato un piacere. Grazie a Pino Capo, a Presidente della Commissione Antidoping della FIGC. Finisce qui questa nuova puntata di Una finestra su, vi ringraziamo come sempre per la vostra attenzione, vi ricordiamo di seguirci sui social network perché a Rete Sole infatti su Facebook, Twitter e Instagram, tutti gli aggiornamenti che riguardano le nostre attività legate al telegiornale così come le produzioni passano da lì, quindi vi consigliamo di seguirci su quelle piattaforme e noi ci vediamo presto. Arrivederci. Grazie a Pino Capo, a Presidente della FIGC.